E' stata completata ed è già utilizzata da pedoni e ciclisti la nuova pista ciclopedonale che collega Garlasco alla frazione Madonna della Bozzola. Due corsie che si affacciano sulla campagna lomellina, separate dalla provinciale da un cordolo dove sono state piantate alcune essenze. Sabato mattina l'inaugurazione in una giornata di festeggiamenti dedicata a Luigi Malabrocca, cui sarà intitolata la ciclabile. Gloria di un ciclismo d'altri tempi, il garlascese Malabrocca è ricordato soprattutto per la sua abilità nell'inseguire la maglia nera del Giro d'Italia, titolo che è riuscito a portare fino a Milano per due volte consecutive nel 1946 e nel 1947. La ciclabile Garlasco-Bozzola è un progetto di cui si parlava da diversi anni, reso ora possibile grazie anche al contributo di un finanziamento regionale. Quindi abbiamo colto la palla al balzo con i contributi regionali appunto di Regione Lombardia di 350 mila euro, abbiamo realizzato finalmente questo collegamento ciclabile e ciclopedonale tra la frazione Bozzola, il nostro santuario e la cittadina di Garlasco. È un'opera che è costata tanto impegno perché appunto era una cosa inseguita da parecchi anni. Il primo breve tratto dal santuario all'area Luna Park era stato realizzato oltre 15 anni fa. Ora completamento del tratto principale, quello accanto alla provinciale, mentre nei prossimi giorni ci saranno ulteriori lavori per allungare il percorso anche all'interno del centro abitato di Garlasco. La parte quella estrourbana, ecco il lotto realizzato adesso è circa un 600 metri di pista ciclopedonale e che va a completarsi a breve perché fra pochi giorni partirà l'asfaltatura del pezzo urbano e la disegnatura della continuazione della ciclabile fino al passaggio livello di Garlasco per completare proprio tutto il blocco e tutto il tratto Garlasco-Bozzo. Per il futuro si pensa di aggiungere altri elementi alla ciclabile come ad esempio delle aree di sosta con delle panchine per ampliare le modalità di furizione del percorso. Nei programmi elettorali degli anni passati, dei decenni passati è sempre stata citata, alla fine è stata realizzata inizialmente negli anni 2003-2004 solo il primo piccolo tratto e adesso abbiamo quindi deciso e siamo riusciti a completarla in maniera totale quindi rendere proprio il collegamento col nostro santuario in maniera definitiva con quest'opera che ritengo era necessaria visto che comunque la mobilità ormai ciclopedonale sta diventando predominante e probabilmente nel futuro, nei prossimi decenni sarà ancora più predominante rispetto a quello che è il movimento con l'auto e via discorrendo.